Ciò che si semina si raccoglie, qua c'è un imprenditore agricolo, lo sa meglio di me. E a volte anche bastano pochi semi per rifar nascere una vita nuova, buttare come dire uno sveglio di coscienza. Si è tenuto ieri a Marsala il quarto e ultimo appuntamento della rassegna estiva ricordando Paolo Borsellino come seguire il suo esempio. Si è tenuto presso la piazza della Vittoria davanti il centro socioeducativo I Giusti di Sicilia. In questo quarto incontro è stato presente tra gli altri il dottor Massimiliano Cochi, inviato di TV 2000. Hanno dialogato con il giornalista televisivo il docente Nicola Clemenza, presidente dell'associazione Libero Futuro, con Don Francesco Fiorino, responsabile del centro I Giusti di Sicilia. L'iniziativa socio-culturale è stata organizzata dall'opera Monsignor Gioacchino Di Leo, con il patrocinio della diocesi di Mazzara del Vallo e del comune di Marsala. La riunione che stiamo facendo stasera invece è reputa molto più importante.